Tansera alle 21.30 Ischia la cerimonia di consegna del premio giornalistico che compie 41 anni con i protagonisti del racconto di una pandemia che ha cambiato le nostre vite. A Ischia c'è per noi Alessandra Barone. La 41esima edizione del premio Ischia, premio internazionale del giornalismo, dedicata al racconto della pandemia che ha segnato questo 2020. Riconoscimenti internazionali per i giornalisti che hanno raccontato quest'anno segnato dal Covid. Tra i riconoscimenti c'è quello ad Andrea Frazzetta, la sua foto sulla copertina del New York Times. Il servizio è nato a fine marzo ed è stato scattato tutto all'interno degli ospedali lombardi che in quel momento si trovavano in una situazione di gravissima emergenza. La fine della copertina è stata dedicata a Monica Falocchi che è la capo infermiera della terapia intensiva ed è un servizio che ha cercato di raccontare, di raccogliere le testimonianze di questo personale sanitario che si è trovato spesso, tante volte l'abbiamo definito, in prima linea. Una grande soddisfazione ricevere questo premio internazionale che negli anni è stato dato ai grandi giornalisti. Certo, è un onore, infatti ringrazio la giuria per aver riconosciuto il valore di questo lavoro e di queste testimonianze, sono sicuramente molto onorato. Stasera alle 21 a Villa Arbusto ci sono anche ospiti musicali, Mario Biondi, Michele Zarrillo, poi ci sono gli altri premiati, tra loro Giovanna Botteri, Giovanni Grasso, Andrea Vianello, Genaro Sangiuliano, veramente tanti giornalisti premiati. L'organizzatore Benedetto Valentino, norme anticontagio, difficoltà particolari quest'anno per l'organizzazione? Ma difficoltà chiaramente legate a quella che è l'epidemia che stiamo vivendo. Noi abbiamo predisposto una serie di protocolli, oltre a quelli aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, proprio per garantire a tutti gli ospiti la massima sicurezza sotto questo profilo, senza però perdere anche quel tocco di vivacità dell'evento. E su questo mi piace ringraziare la legione Campania che da sempre ci è vicina. Appuntamento dunque stasera alle 21 con il Pramio Ischi edizione 2020. A voi la linea.